Il referendum i prossimi 12 e 13 giugno va a votare? Sì, sì. Perché? Perché sono questioni molto importanti, perché troppo spesso si sta perdendo l'importanza del voto popolare in Italia e non mi va. Ritiene che si sia parlato poco? Senza dubbio, non se ne è parlato in maniera approfondita e non sulle cause. Più che altro è stata fatta una questione politica su chi interessa a cosa e non sulle questioni che sono veramente rilevanti per i cittadini. E cosa si sente di dire a tutti gli altri cittadini? Che votare è un nostro dovere, un nostro divitto. Non possiamo lamentarci di quello che non scegliamo. Per cui bisogna votare e scegliere sì e no. E non astenersi solo perché non interessa. Sì, sì, voteremo sì. Certo, certo. Certamente. Io andrò a votare sicuramente. Che cosa si sente di dire agli altri cittadini a proposito di andare a votare? Ognuno penso che adotterà la seconda coscienza, il proprio pensiero. Per quanto mi riguarda io penso che sia giusto fare il proprio dovere da elettore. Sì, sì, andrò a votare, certo. Certamente. Posso chiederle il perché? Beh, io credo che sia un dovere da parte di tutti quanti cittadini andare a votare, e anche perché le motivazioni e i quesiti referendari sono quelli giusti per spingere tutta la cittadinanza, tutta la popolazione italiana ad andare a votare. C'è una questione del referendum che la interessa particolarmente? Quella sul nucleare. E che cosa si sente di dire invece agli altri cittadini? Sa qualcuno ha detto se ne è parlato poco a livello informativo di questi referendum? Di informarsi, cercare un po' di documentarsi al meglio e comunque di andare a votare perché rappresenta una delle poche occasioni in cui c'è l'espressione diretta della volontà del cittadino rispetto a dei quesiti specifici.